Musica Buon Natale, Roallumina, arriva la cassa integrazione per i lavoratori della fabbrica di Portovesme e l'impegno ad attivare gli impianti. Arriva il reddito di libertà, stanziati i fondi per le donne, vittime di violenza. La giunta solina si approva la delibera. Casa Gramsci, inaugurata la casa del grande pensatore dopo la ristrutturazione, ospite d'onore il nipote Antonio. Miracolo di Natale, ventitresima edizione dell'evento che ogni anno destina tonnellate di generi di conforto ai bisognosi. Musica Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione da Telecosta Smeralda. Siglato a Roma, al Ministero del Lavoro, l'accordo per la cassa integrazione di 240 lavoratori dell'Euroallumina. Intanto gli assessori presenti, l'assessora al lavoro Alessandra Zedda, all'industria Anita Pili e all'ambiente Gianni Lampis assicurano che si farà di tutto per avviare al più presto la fabbrica. E dopo la firma del via liberale ampliamento degli impianti, che di fatto sancisce anche la ripresa delle attività per i lavoratori dell'Euroallumina, arriva anche un'altra bella notizia, la firma della cassa integrazione prorogata per tutto il 2020. L'accordo è stato siglato ieri a Roma al Ministero del Lavoro, coinvolti 240 lavoratori. Il coronamento di tanti sacrifici, di tante giornate trascorse, il metto in testa a manifestare per sostenere la riapertura di una fabbrica che potrebbe portare nuova linfa vitale ad un territorio ormai da anni asfittico come quello del Sulcis. Abbiamo portato a compimento l'istruttoria tecnico-amministrativa sulla vertenza Euroallumina che si protraeva dal mese di ottobre del 2015. Lo abbiamo fatto a otto mesi dal nostro insediamento, a dimostrazione della priorità massima che la Giunta regionale ha dato su questa vertenza che ormai si portava avanti da troppo tempo. La Giunta regionale ritiene che oggi si possa fare ancora industria, compatibilmente con il rispetto dell'ambiente e la salute dell'uomo. È quello che abbiamo scritto nella nostra delibera di Giunta regionale ed è quello che dovrà fare la Rusal nella realizzazione dei propri investimenti. Un indotto di 1.450 buste paga non poteva che trovare priorità assoluta da parte nostra. Credo che sia evidente l'importanza e l'attenzione che la Giunta regionale sta ponendo alla questione industriale sarda. Attualmente è in corso un progetto partecipato attraverso Agenda Industria che vede sia il mondo che rappresenta le imprese industriali, sia il mondo che rappresenta i lavoratori, quindi i sindacati uniti insieme alla Regione per costruire nuove proposte concrete di sviluppo industriale per l'isola. Stiamo lavorando soprattutto alle emergenze più evidenti. L'autorizzazione via che è stata rilasciata a Euraliumina da parte dell'assessorato all'ambiente grazie al lavoro che è stato fatto anche in sinergia con l'assessorato alla sanità dimostra che c'è la voglia e l'interesse di ripartire dall'industria che ha determinato per oltre diversi decenni la maggior parte del peso socio-economico del settore industriale isolano. Sono diverse le iniziative che abbiamo in campo, sicuramente nella programmazione del 2020-2021 è fondamentale ridare slancio anche all'industria che rappresenta la parte più buona del settore socio-economico industriale. L'ho detto in altre circostanze, è necessario ripartire prendendo spunto dalla buona industria della nostra Sardegna, quindi da quei soggetti industriali che stanno producendo pil importante in questo momento per poter calare le loro esperienze nel resto dell'isola e aiutare quindi chi come Euralumina si trova in difficoltà per raggiungere insieme un sistema industriale che ritorni ad essere produttivo. Restiamo in tema di esecutivo e parliamo della lettera che il nostro Cristian Solinas ha scritto al Premier Giuseppe Conte per sollecitare l'avvio degli accordi per far arrivare nell'isola i fondi destinati a impegni infrastrutturali, le scuole principalmente, ma anche gli ospedali e le strade. Il tempo dei proclami e delle promesse per Cristian Solina si è ormai scaduto. Chiede una data certa per rendere operativo quel patto siglato a Roma il 7 novembre scorso quando a fronte della rinuncia ai contenziosi pregressi con lo Stato il Governo ha promesso di inviare all'isola 2,1 miliardo di euro. Una richiesta è inviata tramite una lettera diretta al Premier Giuseppe Conte con la quale chiede di poter avviare con urgenza le procedure per la costituzione del tavolo tecnico-politico finalizzato alla quantificazione e compensazione degli svantaggi strutturali permanenti derivanti alla Sardegna dalla condizione di insularità. Il Governatore della Sardegna ha spiegato anche i motivi del suo gesto. Benvenga ogni iniziativa utile a ottenere il riconoscimento per la Sardegna degli svantaggi causati dalle sue particolari condizioni geografiche, ma per raggiungere quanto prima un risultato positivo indispensabile un confronto serrato ai più alti livelli con Stato e Unione Europea. Con il Ministro per il Sud spiega abbiamo già dato inizio a un dialogo costruttivo che si è concretizzato in un accordo articolato che oltre a definire una rimodulazione del patto per la Sardegna per accelerare la spesa trasferendo risorse verso interventi immediatamente realizzabili prevede espressamente l'istituzione di un tavolo regione-stato per l'insularità. Una sottolineatura necessaria rispetto alle tante battaglie sul fronte del riconoscimento dei diritti dei sardi, senza sminuire il valore del riconoscimento in Costituzione dell'insularità, battaglia che seguirà il suo percorso tra i banchi del Parlamento, certo l'isola ha bisogno subito di fondi da spendere come promesso per le infrastrutture, le scuole, l'edilizia, la sanità. Al Governo chiediamo una risposta in tempi rapidi che ci permetta di vedere subito riconosciuti i diritti dei sardi, a cominciare da quello alla mobilità con la nuova continuità territoriale, conclude la lettera. È stato approvato proprio dalla Giunta di cui stiamo parlando il reddito di libertà. Un importante passo avanti nella tutela delle donne vittime di violenza. Arriva un sostegno concreto alle donne vittime di violenza. L'assessore regionale alla sanità ha stanziato 300 mila euro da destinare ai comuni che ospitano i centri antiviolenza o di supporto alle donne, mentre alle vittime spetteranno da un minimo di 780 euro al mese che potranno aumentare in base ai carichi familiari e alle altre condizioni di vita. È stata la Giunta regionale nel corso dell'ultima seduta a firmare la delibera su proposta dell'assessore alla sanità Mario Niedu. Si chiamerà reddito di libertà e vuole finalmente dare una risposta concreta alle donne vittime di violenza che per circostanze economiche non riescono a liberarsi da un compagno violento o dai soprusi ma a rifarsi una vita dopo averlo lasciato. Attraverso il sostegno economico, dice l'assessore alla sanità, e l'inserimento in programmi personalizzati orientati alla formazione e al lavoro, le vittime possono iniziare un nuovo percorso e affrancarsi da una vita di abusi. L'attuazione della misura in tutte le sue fasi, dalla ricognizione del fabbisogno alla redazione dei progetti personalizzati, nonché il loro monitoraggio e rendicontazione, è affidata agli ambiti plus, piani locali unitari dei servizi alla persona. La durata del reddito, così come dei piani personalizzati determinate in fase di progettazione, va da un minimo di 12 mesi a un massimo di 36. In Italia sono circa 500.000 le donne vittime di violenza. La rete regionale di protezione conclude l'esponente della giunta a Solinas è pienamente operativa. Abbiamo rifinanziato i centri antiviolenza e le case di accoglienza con 1,5 milioni di euro. E proseguiremo sulla strada tracciata, dando nuovo impulso a uno strumento importante nella lotta alla violenza di genere. Cambiamo decisamente argomento e parliamo degli ascensori che non funzionano proprio nel più importante mercato del capoluogo sardo. Stiamo parlando del mercato di San Benedetto. Il Comune assicura a giorni arriverà il pezzo che si è guastato, che potrà permettere il ripristino dell'ascensore. Ascensori per il pubblico fuori uso al mercato di San Benedetto, dove sotto le festività con il grande afflusso di clienti tre box, esplode la protesta dei cittadini costretti a usare le scale per salire al primo piano. A farne le spese sono soprattutto gli anziani, i maggiori frequentatori del mercato, ma anche le mamme con passeggini e gli invalidi con ridotta capacità di deambulazione. Precluso all'utenza ormai da tre settimane, l'impianto necessita di manutenzione in una struttura che risente soprattutto dei segni del tempo. Il mercato di San Benedetto infatti è stato inaugurato il primo di giugno del 1957, sebbene con i suoi 8.000 metri quadrati di esposizione su due livelli sia ancora oggi il mercato civico più grande d'Europa. Il problema questa volta riguarda però un guasto di una parte meccanica, ma anche per i montacarichi delle merci la situazione fatiscente non cambia. Dei tre a disposizione per i boxisti, solo uno è funzionante, mentre uno è fermo da settimane e un altro lavora singhiozzo. Per non parlare poi delle scale mobili di via Tiziano, oramai chiuse da anni, ma certamente non più a norma, è per la posizione esterna alla struttura, è per la tipologia dell'elevatore. Numerose le segnalazioni che sono arrivate in redazione per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su un problema che investe soprattutto l'amministrazione comunale. Signora, buongiorno, voi state usando le scale perché l'ascensore è guasto, guarda, è un saffiatto. E come fate adesso? Come andate via con le buste? Eh, pazienza, ci siamo arrangendo. Non mi dica niente di quella faccenda perché... È nervosito, lui. Non fa. Perché abbiamo un sindaco e tutta la cerimonia. È fatto per cerimonia. Il signor sindaco, io ho il bastone, che c'è l'ascensore guasto più di un mese. Cosa sta pensando? Non il sindaco ma i tecnici. Capito? Dice che doveva fare, doveva, non sta facendo niente. Che l'ascensore, l'80% che viene al mercato sono anziani e hanno bisogno dell'ascensore. E quindi lei sta comunque venendo ma acquistando poco per il peso da portare? Io cosa ci metto a fare le scale? Non so solo io. Io ho 86 anni. Va bene. Glielo dica o lo faccia sapere. Un mercato come Cagliari che non ci sia nascita perché poi non è ascensore, è un motacchiari. Ho detto tutto. Grazie. Interpellato, l'assessore delle attività produttive Alessandro Sorgia ha assicurato che nei prossimi giorni con l'arrivo del pezzo meccanico da sostituire l'ascensore riprenderà funzionale. E sono previste anche risorse recuperate tra voci di bilancio per migliorare l'accessibilità nei sei mercati della città. Intanto, sotto le feste a San Benedetto, Santa Chiara e Sbingias sarà garantita anche l'apertura domenicare il 22 e il 29 dicembre. Mentre a Sant'Elia e in Via Quirra, oltre alla domenica, si potranno fare acquisti anche il pomeriggio delle vigili e fino alle 16.30. Ci fermiamo un attimo per una brevissima pausa pubblicitaria. Bentornati in studio a Ghilars. È stata inaugurata ieri la casa di Gramsci dopo un periodo di ristrutturazione. La prima edizione dell'International Gramsci Festival è stata inaugurata con la riapertura della Casa Museo dopo sette mesi di inattività. A spalancare il portone ed entrare per primo nell'edificio fresco di ristrutturazioni è stato Antonio Gramsci Junior che al fianco del direttore Paolo Picquareddu ha illustrato l'originale mostra fotografica allestita al primo piano con 45 immagini della famiglia Schuch. Una mostra su Gramsci non c'era mai stata nemmeno nell'Unione Sovietica affermato in ipote del grande pensatore. In Russia è stata predisposta per la prima volta proprio quest'anno grazie all'appoggio della Fondazione Gramsci di Roma e mi è stata data la possibilità di lavorarci tanto. Ho riesaminato l'archivio familiare e tutti i documenti alcuni dei quali sono stati ripresi dall'archivio del Comintern e abbiamo scannerizzato tutto. Alcune foto sono inedite e rarissime come il ritratto del trisnonno Alexander Schuch nella divisa da generale. C'è anche un'immagine del castello appartenuto alla famiglia a una casata nobile russa di origini tedesche. Nonno Antonio nel 1923 aveva sposato Giulia dalla quale ebbe due figli Delio e Giuliano di quest'ultimo figlio Antonio Junior. Tra i preziosi documenti è esposto il certificato di battesimo della sorella di Giulia firmato Vladimir Ilik Yulianov il nome completo di Lenin quando ha fatto il prete ha battezzato una mia parente ha scherzato Antonio di fronte al pubblico numeroso mentre alcune foto sono piuttosto antiche risalente addirittura a metà ottocento una delle ultime ritrei Antonio Junior bambino con suo padre per un lasciapassare congiunto la nostra famiglia non ha sentito su di sé le repressioni di Stalin affermato nell'illustrare la mostra è stata risparmiata probabilmente proprio grazie agli stretti legami con Gramsci all'ingresso del museo è stata presentata anche l'opera in punta di Ago un frammento di vita un libro realizzato dagli studenti del liceo artistico Foise o Foise dedicato alla vita da studente di Gramsci a Torino mentre nei locali rinnovati dell'ex fede del PC è stata allestita la mostra Global Gramsci con le illustrazioni di Agostino la Curci in cui l'immagine del filosofo si presenta quasi come un'icona pop a livello planetario quest'anno è stato particolare per la famiglia Gramsci perché per la prima volta nella Russia è stata allestita la mostra dedicata ad Antonio Gramsci neanche nell'Unione Sovietica è avvenuto un evento del genere grazie all'appoggio della fondazione Gramsci questa mostra c'è stata e ha lavorato per alcuni mesi addirittura per coincidenza durante questa mostra sono venuto a Ghilharza per un altro progetto ho parlato con il direttore del museo casa Gramsci abbiamo generato questo progetto perché non organizzare una mostra fotografica della famiglia della famiglia russa di Antonio Gramsci e il risultato lo potete vedere accanto alle foto ben conosciute ci sono anche alcune foto e documenti proprio inediti adesso parliamo del miracolo di Natale giunto alla 23esima edizione 16 comuni che daranno vita all'evento proprio nell'edizione 2019 appuntamento il 18 dicembre dalle 9 alle 21 per aiutare concretamente le famiglie bisognose ritorna anche quest'anno il miracolo di Natale l'appuntamento con la solidarietà che mercoledì 18 dicembre per la 23esima edizione coinvolge 16 comuni nato su iniziativa del popolare volto tv Gennaro Longobardi l'evento si svolgerà contemporaneamente dalle 9 alle 21 a Cagliari capofile del progetto Bosa Decimo Mannu Domus Novas Guasila Iglesias Monserrato Olbia Porto Torres Quartus Sant'Arena e Quartuccio Sassari Selar Giussestu Villa Cidro e Villa Puzzu lo scorso anno sono state raccolte 16 tonnellate e mezzo di buste di generosità contro le 12 tonnellate dell'anno precedente numeri in crescita che confermano quanto i sardi siano attenti e solidali con i più bisognosi un importante gesto concreto di sensibilità nei confronti di chi vive una situazione sfortunata si possono donare generi alimentari lunga conservazione cioè non deperibili prodotti per bambini come pannolini salvietti omogenizzati ma anche giocattoli per i più piccoli meno fortunati speriamo quest'anno di battere il nostro record che tra l'altro poi ho scoperto stamattina ed ero anche contento perché pensavo che ho fatto meno invece abbiamo fatto 16 tonnellate e mezzo l'anno scorso quindi vorrei che quest'anno vorrei battere il record perché ci darebbe l'opportunità di dar da mangiare alle persone per magari un mese in più noi attualmente copriamo 3-4 mesi che non è poco perché sono migliaia di persone sono sempre più i comuni e i cittadini che vogliono partecipare e aderire a questa iniziativa adesso quest'anno siamo in 16 l'anno prossimo saremo di più adesso io dirò una cosa non vi spaventate poi la spiego io sarò felice il giorno che non lo faccio più il miracolo di Natale perché vorrà dire che non c'è più bisogno però purtroppo in questo momento c'è bisogno e il fatto che aumentano le città che chiedono di partecipare e di aderire al miracolo di Natale vuol dire che il termometro del miracolo di Natale non porta buone notizie dal punto di vista della povertà però porta notizie straordinarie che sono quelle del popolo sardo generoso solidale unito compatto per il miracolo di Natale e questo fa solo onore ricordiamo ai nostri unitari spettatori che cosa possono portare servono gentilmente lo so che è strano però servono proprio i generi alimentari la pasta zucchero caffè olio pelati scatolame e poi noi a Cagliari abbiamo necessità di indumenti solo per neonati noi non accettiamo abbigliamenti nessuna delle città accetta abbigliamento però per neonati sì perché ne abbiamo davvero poco e mancano anche gli omogenizzati e i pannolini non so siamo nel 2019 a me mi costa assai dire questa cosa però la verità è la verità va detta la solidarietà è sempre importante in qualsiasi dimensione economica poi ci si ritrovi a vivere perché vuol dire relazione rapporto fiducia condivisione ma la Sardegna ha bisogno della solidarietà anche perché secondo i dati Istat due punti in percentuale in più rispetto alla povertà dell'anno scorso e allora miracolo di Natale si colloca proprio come nella sua ventitresima edizione come un momento in cui viene raccolto questa domanda questo bisogno da parte dei poveri anche di risposte primarie anche quelle alimentari e allora ecco diventa importante miracolo di Natale perché non solo c'è la solidarietà concreta dei beni ma perché poi aiuta un po' noi tutti tutta la cittadinanza a mettere attenzione ai bisogni che tante famiglie povere ogni giorno continuano a soffrire è la fotografia di un'isola sempre sempre più povera servono soprattutto generi alimentari sì certo servono generi alimentari per superare la povertà serve anche forse avere degli strumenti io in questi anni attraverso miracolo di Natale ma anche attraverso tante altre iniziative che promuoviamo abbiamo anche capito una cosa che il popolo sardo quando riceve fiducia quando gli viene data la canna da pesta quando ha la possibilità di accedere al credito poi davvero non delude assolve a tutti i suoi impegni ecco mi pare che richiamare anche questo aspetto che è davvero il miracolo poi che tutti ci attendiamo il miracolo di Natale raccoglie questo bisogno da un po' una sorta di ciambella di salvataggio nel momento del bisogno ma quanto è importante capire che il miracolo di Natale poi deve tradursi in percorsi di emancipazione dalla povertà per tanta gente soprattutto attraverso il lavoro veniamo alla nostra programmazione alle 21 ritorna alla ricerca delle colonne d'Ercole ultima puntata del primo ciclo di alla ricerca delle colonne d'Ercole oggi alla scoperta di un luogo magico la bellissima città fantasma di Gairo Vecchia ci addentreremo nel cuore dell'Ugliastra per scoprire cosa accade nel lontano 1951 un luogo perfettamente conservato quindi in realtà più che abbandonato ciò che non fece l'alluvione fece invece la paura e il panico degli abitanti sì ci è stato raccontato da parte di numerosi testimoni anche un signore ultra novantenne un vero proprio testimone oculare di quel che accade di questa incessante pioggia per diversi giorni quindi diverse noti che spinse le persone ad andare via dal paese ma scopriremo gradualmente dopo questa alluvione c'è diversi giorni dopo e poi c'è tutto questo grande mistero che riguarda un paese che al di là di un paese fantasma anche un paese di storie di ricordi legate a quei camminetti spenti a quelle croste sui muri a tante emozioni che potremo vivere nel cuore delle visite che faremo con delle guide degli esperti locali incredibilmente quindi è proprio questo fascino decadente di gairo vecchio ad attrarre i visitatori insomma i turisti sì da un lato c'è il fascino dell'ignoto di persone che si addentrano per fare i propri selfie per fare delle immagini pubblicizzano un luogo che però non è ufficialmente turistico quindi c'è questa sorta di attrazione e repulsione e questa spinta di varcare al di là dei cartelli di divieto quelle porte e quelle finestre che ospitavano tante vite e quindi tante anime che non animano più quel luogo abbiamo detto l'ultima puntata del primo ciclo che cosa sarà invece dopo la ricerca delle colonne d'Ercole beh stiamo un po' corragionando su quelli che sono i misteri che vengono dopo alcuni periodi storici siamo partiti con la storia di Sardegna mitica isola di Atlantide descritta dai greci e siamo andati proprio alla scoperta delle colonne d'Ercole successivamente abbiamo analizzato i periodi come quelli della città di Metalla quindi la fase pisane medievale della Sardegna ci siamo spostati anche a degli accadimenti come dei disastri aerei quelli del 19 di Capoterra e poi in una prospettiva turistica cosa sarà di questi luoghi se l'uomo per l'appunto non ci si addentrerà con le nuove generazioni del futuro ecco vorremmo capire di più andando in altri siti in altre località insomma ho capito benissimo Marcello Polastri Alessandro Paglietti non ci vogliono svelare nulla del prossimo ciclo intanto questa sera l'appuntamento è come sempre alle 21 giustissimo questa sera alle ore 21 sempre su Tele Costa Smeralda ma in realtà stiamo aspettando stiamo aspettando anche molti messaggi da parte dei curiosi che ci seguono e che ci proporranno dei nuovi siti da visitare è davvero tutto per il momento io vi ringrazio per averci seguito vi do appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti